che sarebbe l'ufficio delle guardie ma sì la sicurezza deve stare qui allora cosa ci chiede sempre una scriveria una sedia un armadio documenti non ho capito però cosa dovrebbe servire questa stanza della sicurezza ma mettere anche due divani grandi vai allora iniziamo a bloccare l'armeria ci sta è l'avvocato allora visto che abbiamo solo una stanza di isolamento io qui farei altre due stanze dell'isolamento un'altra cosa che voglio fare quindi c'è l'isolamento qui e qui porta isolamento fam fam almeno sfruttiamo quello spazio allora cosa ci manca più una biblioteca una cappella ci vorrebbe un obitorio un'officina un'officina richiede una grandezza minima 5 per 5 e facciamo anche questa dai quindi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 questa è la grandezza dell'officina però magari la farei un pochettino più grande che ne dite facciamolo quanto tutta la stanza così muro facciamo un bel muro arrugginito con la porta qui che sfizio allora cosa chiede segue officina pressa officina tavolo allora segue officina pressa officina e un tavolo allora ho messo due tavoli magari un tavolo fa legname va anche qui abbiamo assegnato i lavoratori tramite la logistica e non so cosa potrebbe mai servire non ne ho idea cosa può servire questa officina armeria adesso abbiamo l'armeria abbiamo sbloccato l'armeria che bello sinceramente la farei qua a questo punto la sicurezza è l'armeria la rimpiccioliamo la sicurezza e facciamo metà sicurezza e metà armeria io penso che ci sta tutto qui no quindi faccio così sposta lo mettiamo qui sicurezza deve essere un 4x4 quindi 1 2 3 4 il muro deve partire da qua deve scendere giù così ok ci manca solo questo qui che andiamo a spostare e questa è la sicurezza vediamo l'armeria ci richiede un requisito di grandezza no quindi io adesso mi faccio questo come armeria cosa vuole armadietto armi armadietto guardia e un tavolo allora armadietto armi 1 2 e 3 armadietto guardia 1 2 3 4 5 è un tavolo abbiamo detto si vuole un tavolo nemmeno un tavolo piccolo vuole proprio un tavolo io lo piazzo qua il tavolo ma pure un tavolo piccolo ha detto che andava bene però quindi adesso che abbiamo l'armeria potremo assumere le guardie armate 1 2 3 4 5 perché 1 2 3 4 5 ogni armadietto possiamo assumere una guardia armata in poche parole voglio vedere se ne aggiungo un altro no massimo 5 ah no quello ancora deve montare aspetta sta arrivando sì sembra di essere possiamo assumere un'altra guardia armata vabbè però 5 penso che bastino cosa possiamo fare con queste guardie armate ma possiamo dirgli di andare una determinata parte tipo qui e poi tornare indietro allora adesso voglio fare solo questa come sovvenzione perché se non erro possiamo farcela assumi un comandante già l'ho fatto poi assumi 10 guardie io quante guardie ho 6 7 8 9 10 fatto sblocca pattuglie tramite burocrazia quindi quindi pattuglia pattuglia ci vogliono 5 ore e assegna 3 guardie a una pattuglia sì noi possiamo dire una guardia che devi fare che ne fa avanti e indietro qui un'altra in quest'altro corridoio e viceversa io di solito sempre facevo fare una pattuglia qui sempre perché così poteva aprire subito queste due porte io metterei un'altra porta blindata qui sinceramente ok bloccato pattuglie assegna 3 guardie a una pattuglia come si faceva qui schieramento allora direzione dei visitatori ah eccolo qui pattuglie per esempio possiamo fare pattuglia questa zona qui così così oppure per esempio pattuglia qua e pattuglia qua ok pattuglie armate qua adesso per esempio queste pattuglie armate stanno girando in quella zona che abbiamo detto noi volendo noi le pattuglie armate le potremmo fare anche andare all'esterno se mi sbaglio in realtà abbiamo messo un po' troppe guardie a pattugliare però ehm non mi piace così ad esempio posso togliere alcune sì ne voglio una sola che mi pattuglia questa zona qui ok ho sistemato un po' le pattuglie ho capito bene o male come funziona cioè in schieramento vai in pattuglie metti un colore tipo ho sempre fatto questo qui blu poi che vuoi quella armata o quella normale se tu metti l'armata ci clicchi sopra una volta e lui te l'aggiunge in questo caso è grigia perché sono tutte occupate infatti però vedete l'ho messa un'armata qui che gira tutto intorno poi altre due armate che fanno questo corridoio avanti e indietro e un'altra armata e una normale che fa questa parte qui del corridoio volendo potremmo mettere una pattuglia armata qui per proteggere gli uffici perché qua non c'è nemmeno una porta quindi potremmo allungare anche qui sì loro si allungano e poi tornano indietro e vanno dall'altra parte forse è meglio eh questo qua ad esempio qui ne potremmo togliere una e far sì che questa qui faccia così tutto il giro e mettere un'altra armata qui è una parte un poco più che adesso se non è più protetta secondo me un'altra cosa migliore è quella di fare una bella porta qua magari ci mettiamo sempre una porta bella della prigione o porta di sicurezza secondo me forse è meglio tanto ci sono le guardie che vanno avanti e indietro e loro possono aprire se nel caso qualcuno degli uffici deve uscire come mensa fortunatamente ce la facciamo a sostenere tutti e questa è la nostra cella non abbiamo ingrandito un po' di più non abbiamo ancora più detenuti cioè abbiamo il massimo dei detenuti anzi 43 su 44 quindi penso che adesso uno arriverà e abbiamo quest'altra zona l'officina ancora non vedo nessuno mi sa che devo aggiungere qualcosa ad esempio corsi corso di sicurezza in officina ecco qua adesso l'ho fatto devo avviare i corsi terapia contro la parola non si può fare questa non si può fare però abbiamo fatto questi tre ebbene ragazzi credo che anche per questo episodio siamo arrivati alla fine siamo cresciuti abbiamo delle guardie armate ne potremmo mettere anche di più però penso che per adesso vada bene così progetti prossimi cortile più grande mensa più grande magari potremmo fare un altro cortile qui con un'altra mensa e tutto intorno a altre celle altre celle che faranno questo giro qua e si secondo me qua la fara di gnameria cercheremo di stringerla faremo un corridoio in modo da fare poi il classico corridoio come abbiamo fatto anche qui delle celle quindi che vada qua a qua sotto magari elimineremo una cella di isolamento e faremo altre celle tutte e quattro penso di si dovremo ingrandirci però prima di ingrandirci magari ci facciamo un cortile più grande una mensa più grande e poi anche una seconda doccia magari da quest'altro lato in modo da avere due docce e teniamo tutti i nostri prigionieri su questo lato qui all'interno infatti qua adesso per esempio ho chiuso loro da qui è inutile cioè non ci devono proprio andare da quest'altro lato e meglio più sicuro perché loro passavano di qua arrivavano qui come se volessero andando a fare la doccia poi scazzottavano e sono riuscito a scappare e quindi che dirvi io vi ringrazio come sempre per la visualizzazione del video vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina se avete consigli iscrivetevi nei commenti di passare sul canale e iscrivervi sul server di telegram programma gratuito è molto molto utile e che dirvi vi ringrazio ancora da Zerk è tutto ci vediamo in un prossimo episodio di Prison Zerk ciao ragazzi is laying next to you we need to slow ciao